Melito Portosalvo, 7 agosto 2014. Siamo in compagnia dell'On. Natino Aloi. La sua presenza in questo importante convegno. Sono io veramente entusiasta di tutto ciò che è avvenuto stasera, di un convegno che ha avuto una portata storica, che ha dato un senso a una città e ha dato un senso a Melito, che durante il Risorgimento ha avuto un ruolo importante, ma anche il collegamento che si è fatto tra Garibaldi da una parte e la Prima Guerra Mondiale o Quarta Guerra Indipendenza. Relatori eccezionali, ci siamo confrontati, abbiamo esaltato il valore dell'Unità d'Italia, e abbiamo detto chiaramente che non accettiamo discriminazioni né demonizzazioni da parte di individui che dal nord pontificano, demonizzando la Calabria, perché questa è terra nobilissima, terra che ha dato molto all'Italia e ha pagato sempre a alto prezzo. Quindi certi atteggiamenti sono insopportabili. Ecco, onorevole, siamo vicini alla contrada a Rumbolo, dove già duemila anni fa ci fu la guerra siciliana tra i figli di Giulio Cesare e Neopompeo, cioè il futuro Cesaro Tapiana Augusto e Pompeo VI. Quindi però in giro c'è tanta mistificazione, ci sono tanti falsi storici, e su questo stesso punto poi sbarcò Garibaldi, no? Ma la storia si ripete, si va dall'antica Roma, da tutte le gesta dell'antica Roma, alla storia più recente, che è quella che vede nell'eroe dei due mondi la scelta di questa località. E qui c'è un mausoleo, qui c'è una stele che ricorda quello sbarco, che è stato parte integrante del processo di unificazione nazionale. Ma qui c'è anche qualcos'altro, c'è una targa che io ho voluto allora da consigliere provinciale alla Casina dei Mille, che ricorda proprio il pericolo che Garibaldi scampò a causa di una cannonata sparata da una nave borbonica e per poco non ci lasciò la pelle. E questo fu una grande fortuna per l'Italia, che perché se Garibaldi fosse stato colpito, l'unità d'Italia non si sarebbe fatta. E c'è sempre una nave Torino da recuperare. E c'è sempre una nave Torino da recuperare, facemmo l'ira di D al riguardo, c'è un finanziamento della Regione, bisogna fare di tutto, perché anche questa parte di storia, perché sono archivi i nostri presenti nel nostro mare, presenti nei vari punti e che costituiscono proprio lo strumento necessario per conoscere la storia d'Italia. La città di Melito Portosalvo è stufa di fare la parte della comparsa e della cenerentola, parliamo storicamente ovviamente, invece Melito Portosalvo ha avuto ed ha, perché la storia gliel'ha assegnato, un ruolo di primissimo piano. Sono perfettamente d'accordo, Melito ha recitato un ruolo nella storia, deve recitarlo anche nell'attualità, perché ha una classe, ha degli intellettuali, un popolo generoso. I migliori miei compagni di liceo erano ragazzi di Melito, li ricordo sempre con grande piacere, erano quelli che si sono fatti onore proprio in tutti i campi, poi protagonisti nel campo intellettuale, nel campo professionale. Insomma, Melito non può non essere in sintonia con la propria storia, che è storia fatta di valori, di principi e soprattutto di un significato. Abbiamo ascoltato che ha difeso con i denti e con le unghie la mitica figura del leggendario eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi. Io credo che noi italiani dovremmo essere eternamente grati a Giuseppe Garibaldi. Io quando vedo certi atteggiamenti critici da parte di alcune zone anche nostre nei confronti dell'eroe dei Due Mondi, io credo che si faccia un torto alla storia, all'umanità di Garibaldi, perché era un uomo disinteressato, profondamente umano e generoso più che mai. E proprio tutto ringraziamo l'onorevole Natino Aloi. Grazie a voi. Grazie. Grazie.